te l'ho detto che cadevi cazzo non l'ho filmato e non l'ho filmato se la facevo veloce mi chiudeva sotto di colpo lo sapevo l'ho fatta piano la chiude lo stesso e guzza dirla lì no ma non è stato lui soltanto io che mi sono pesato di qua se la tenevo di raffa passavo fuori mi piace così devi arrivare vicino al sasso e puoi tagliarla di modo che se anche ti tocca vieni fuori è tentata bene che ha schifato il sasso io ero già pronto e non l'ho filmato tanto ho detto tanto non lo fa ma cazzo di qua c'è sto stupido di un sasso cazzo non riesci a prendere il divestamento bene ti tocca dentro perché ti porta via cazzo da fare devi farla alta come le fanno certe vai Grazie a tutti.